Già il mio nuovo gameplay Yogi Watch 1 Qui si mi chiamo vabbè David Davilei volevo dirmi Qui Dovremmo cercare di saltare la parte ma non la farò così molto importante la natura Nel sto giorno capisci la sera Iniziamo allo sera Già la ricorda Tadà Pier ci fa vedere una scapola Wow, sono bellissimi Le catture di tu da solo? Si, c'è una foresta proprio dietro dalla nostra casa a vacanze forte eh C'è una Maria da quale parti nel tuo esempio di Dario Comunque voglio carturarti quasi tutti io pieno di un fifone E Davilei sta raccogliendo anche tu insetti per il progetto estivo Sì, solo che non riesco proprio a trovare la motivazione giusta Non è ancora iniziato Sto ammetto che non è preso neanche un insetto Non è per staccare la zampia un bagno spattolo per un insetto raro Siete terribili Lasciatelo No Siete terribili Lascialo stare Sant'ora Non sarebbe riuscita nel sotto Proprio così No Non so Io mi fanno Per fare una cosa Se mi fanno anche Per fare una cosa Sì 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 Mi farò vedere quanti insetti cattiverà sto uomo ma bravo è tenuto un grettino per gli insetti wow inutile un momento dove posso trovare una marea di insetti super rari che cosa ne so io tu ci sono davanti non lo fai a chiedere a me non forse provare a cercare di asparti corretto ce ne saranno alcune sono avvisati da mamma per neagare no non lo vado a avvisare te ne vai io un giorno c'è da loro vabbè i miei nomi base questi sono una mamma di base e io sono una mamma Allora qui parleremo finché parliamo con la mamma e dopo smetto di fare il video, lo stoppo. Ehi mamma la vado al parco a catturare un po' di insetti va bene ma non fare tardi. Mi dicevo, ok Davide ti sei iscritto, ti sei iscritto il nuovo bel diario, cosa sto dicendo certo perché sì ci hai provato, ma se non lo scrivi di tutto ciò che hai fatto o che hai fatto lo so, non mi interessa. Va bene Marti che c'è un bambino. Potete leggere, stoppate il video se non sapete dove sto io, proprio per stoppare il mio video, per vedere il mio primo capitolo. Questa è storia, questo si racconta nei libri, ma non la storia di Napoleone. Bene andiamo al parco e ora mi farò vedere a quegli insetti che comanda. Io comando Davide. Cugino comanda, io comando, io comando. Non quegli insetti luridi che puzzano abbastanza, ma tanto puzzano. Cugino comanda, io con un cibo, 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 cibo e cibo. E cucciano. Sì, vuoi che vedere le mie Marte? Questa, vi faccio vedere la Marte intanto. Fia dove sta andando e questo è il barco. Si, quindi è molto vicino. Guarda che Piero ha cattuto la vicina di sezio. Tutti, tutti ha cattuto, tutta la bambina. Allora sono alicionale. Noi. O dà mio, oh? Come un nome al suo cuore c'è la spropena? insettino schifo è schifo insetto ti distruggo se l'ho preso yes preso e vai allora ci fermiamo fra un po' qui ci dobbiamo fermare se vi è piaciuto il video lasciatemi in descrizione mi piace mi piace il bambino il piccolo più felice dal mondo il piccolo più felice dal mondo se vi è piaciuto il mi piace ed iscrivetevi al canale porterò un video sempre come questi ma non lo so porterò sicuramente anche io e watch 2 probabilmente spintassi finissimi ciao allora io ho quasi finito e se avrete strumenti non capisco inizierò inizierò e anche dopo a farò qualcosa a camera come se inizierò come se inizierò 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 e alla prossima e ciao inizierò a le inizierò inizierò wow Ciao!